Lunedì 10 giugno alle ore 21 torna a Pesaro al cinema Loreto il Rovescio della Luce, un recital scritto da Laura Corraducci che lo ripropone ad ingresso gratuito anche grazie al contributo dell'Arcidiocesi di Pesaro, uno spettacolo che cade anche in una ricorrenza particolare. Sì, coincide con una ricorrenza importante, il 2024 sono gli 80 anni della liberazione di Pesaro, il recital torna con me e con Cristian della Chiara, l'altra voce narrante degli eventi importanti che sono avvenuti nella nostra città ma anche nei paesi della nostra provincia, fra cui un episodio che è veramente di luce e che riguarda la chiesa francescana dei Cappuccini, una chiesa che tutti i pesaresi conoscono, che è vicino alla stazione, nella qual chiesa nel periodo della seconda guerra mondiale è avvenuta. Un evento positivo in un contesto veramente orribile come ovviamente il contesto della guerra e che racconteremo nuovamente come hai detto tu lunedì 10 giugno alle ore 21 al cinema Loreto. Mi fa piacere ricordare che l'ingresso è libero, quindi non c'è il costo di un biglietto, grazie proprio al contributo dell'Arcidiocesi di Pesaro. Io ringrazio anche Don Marco Di Giorgio perché ha accolto con entusiasmo lo spettacolo e quindi spero che i cittadini pesaresi possano essere in tanti a rivedere, a riscoprire forse perché non tutti questi eventi sono così conosciuti e forse noi camminiamo per le vie della città senza sapere che cosa queste vie portino con loro e quanta storia di chi ci ha preceduto sia importante per noi. Grazie. 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 Grazie.